Loredana Lecciso Loredana Lecciso, lacrime in diretta tv, quanti errori con Albano Loredana Lecciso, lacrime in diretta tv, quanti errori con Albano. La showgirl parla della sua famiglia allargata, del rapporto con Albano Carrisi e Dieromina Power. Sto bene, sono ingrassata meno sto bene, è un periodo tranquillo e ho riscoperto il piacere della tavola, sono ingrassata di 5 chili. Racconta Loredana, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live con un nuovo taglio di capelli biondo platino. E poi, punsecchiata dalla conduttrice sul nuovo riavvicinamento in tv tra Albano e Romina in così vicini così lontani e, video intervista. Rispettiamo la nostra autonomia, ogni scelta che Albano fa lavorativamente merita la mia massima stima. Non mi permetterei di intervenire in alcun modo. Entrambi rispettiamo la nostra autonomia, dice la compagna del leone di Cellino San Marco. E con Romina, assicura, nessuna rivalità. Ognuno vive la propria vita in piena libertà, sincerità, gioia. Il resto sono solo parole. L'amore è inteso a 360 gradi e ho una famiglia bellissima, genitori, figli, fratelli fantastici. Non potrei chiedere altro dalla vita. Si commuove meno infine Barbara D'Urso le mostra filmati sulla sua vita, dall'incontro con Albano alla loro famiglia, alle litigate di coppia. E sono lacrime e mea colpa, di errori ne ho fatti tanti, e per quanto possa dispiacermi e possa scusarmi, tutto ciò che siamo adesso è anche frutto di quegli errori. A presto! Grazie a tutti.